Fast Market Web GDPR comunicazione al cliente. Perché è importante per le aziende adeguarsi alla normativa GDPR? Privacy e Security oggi sono i principali cardini della nostra impresa. Senza le adeguate competenze e gli strumenti necessari, la nostra realtà aziendale non può operare con sicurezza nel mercato. Che cos'è il GDPR? Il GDPR è di gran lunga il regolamento più completo ed efficace al mondo in materia di privacy di dati, voluto dal governo europeo per far fronte in maniera robusta al rischio sempre più diffuso di perdita o sottrazione impropria dei dati. Il GDPR si applica a tutte le organizzazioni che a vario titolo trattano dati classificabili come dati personali di cittadini residenti nell'Unione Europea. Il regolamento ruota attorno a quattro principi. Accountability and Governance. Il regolamento pone con forza l'accento a titolari e responsabili, ossia sull'adozione di comportamenti proattivi e tagli da dimostrare la concreta adozione di misure tecniche e organizzative finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento. Breach Notification. L'articolo 33 del regolamento impone al titolare del trattamento di notificare all'autorità di controllo la violazione dei dati personali data breach entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza. Storage Limitation. I dati personali, articolo 5, non dovranno essere conservati per un periodo di tempo maggiore di quanto sia strettamente necessario in relazione alla finalità del trattamento. Individuals' Right. Il regolamento introduce nuovi diritti come il diritto di accesso, articolo 5, il diritto alla portabilità, articolo 20 e il diritto di cancellazione, articolo 17. Le figure legate al GDPR. Le figure chiave coinvolte nei processi aziendali sono 7. L'interessato, il titolare del trattamento, il data controller, il data processor, il data protection officer DPO, supervisory and authority, European data protection board. Le novità legate al GDPR. Privacy by design e by default. La definizione dei requisiti di riservatezza e protezione dei dati personali deve essere prevista fin dalle prime fasi di progettazione di prodotti o servizi che si vuole auspicare. La nuova figura professionale è il DPO che sarà responsabile dell'applicazione della verifica del GDPR. Nuovo obbligo di comunicazione al garante privacy agli utenti finali in caso di data breach. Nuovo registro del trattamento dei dati personali. Il registro dei trattamenti è un documento in cui il titolare deve tenere traccia documentale delle operazioni di trattamento effettuate indicando una serie di informazioni di dettaglio. Nuovi diritti per gli utenti, quali accesso, portabilità e oblio. Comunicazione e formazione. Sarà necessario rendere tutta la popolazione aziendale consapevoli degli impatti del GDPR e pianificare un programma di istruzione e formazione completo. Quali sono le sanzioni? Fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo globale dell'anno precedente alla sanzione o a seconda di quale sia superiore. È essenziale iniziare a pianificare l'approccio alla normativa GDPR il più presto possibile e coinvolgere le figure chiave della propria organizzazione. Fast Market Web. GDPR comunicazione al cliente. Fast Market Web. GDPR.